Ostia antica come non era mai stata pensata, più grande, completamente circondata da torri e mura di difesa. La tecnologia ha permesso di individuare il vero perimetro, 126 ettari, il doppio di Pompei, strutturati per accogliere le merci per Roma che nell'età imperiale contava un milione di abitanti. La conoscenza di un suburbio ostiense, della presenza di edifici di stoccaggio all'urcolargine del fiume, era una conoscenza già acquisita. L'elemento dirompente che ci fa un po' rivedere anche proprio tutta la storia urbanistica della città di Ostia è lo scoprire che esisteva il quarto lato della fortificazione urbana. Un punto essenziale per gli scambi commerciali e culturali del Mediterraneo. Le merci prima di risalire il Tevere per raggiungere il centro città venivano stoccate e custodite. La scoperta è il risultato di uno studio iniziato nel 2007 nell'area di Isola Sacra grazie agli sforzi della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma e le università inglesi di Southampton e Cambridge. La scoperta e la sorpresa è stata quella del cosiddetto Trastevere Ostiense, quindi di un pezzo consistente della città a nord del Tevere, la scoperta di un 50% in più di magazzini, luoghi deputati alla conservazione delle derrate, alla conservazione di tutte le merci e quindi la comprensione ancora più immediata e più certa che nel passato del ruolo importantissimo che Ostia, Isola Sacra e tutto il territorio ostiense si hanno svolto avendo come terminale e punto di partenza insieme la città più stratosferica e ricca dell'antichità.